Celebrazioni del 2 giugno all'insegna del distanziamento e del rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, quelle che a Torino hanno aperto i festeggiamenti per il 74esimo anniversario della Repubblica Italiana. Abbandonato almeno per quest'anno il tradizionale cerimoniale in Piazza Castello, è toccato al cortile d'onore della Scuola di Applicazione dell'Esercito di Viersenale ospitare la cerimonia dell'alzabandiera, accompagnata dagli interventi del prefetto di Torino Claudio Palomba, del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del Sindaco di Torino Chiara Appendino. Un 2 giugno che assume in questo 2020 il dublice significato di festa di democrazia e festa di libertà, quella libertà che gli italiani, se non negata, certo hanno sentito molto limitata negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria. Proprio domani, il 3 giugno, riaprono i confini regionali, perciò è una doppia festa quest'anno. C'è necessità di rilanciare, come ha già detto e espresso il Governatore Cirio, anche con un rilancio economico e sociale. Da domani si riparte e si riparte la grande più forti di prima. Per sottolineare come i valori della Repubblica e della Costituzione accomunino istituzioni e cittadini, per tutta la giornata del 2 giugno, Giunta e Consiglio regionale, Prefettura, Comune di Torino, Città metropolitana, Ufficio scolastico regionale e i tre Atenei piemontesi, hanno condiviso online una serie di iniziative accomunate dall'hashtag Io ci credo perché. La Regione Piemonte col Consiglio regionale, con le istituzioni locali, ha voluto creare un hashtag adeguata per il rilancio sociale e economico della nostra Regione. Ci dobbiamo credere tutti. Abbiamo possibilità e necessità di riavvicinare non solo i nostri cari, ma i nostri affetti, ma anche le nostre economie, le nostre socialità, il nostro essere italiani piemontesi. Due i contributi del Consiglio regionale, il video Io ci credo perché, 25 interviste da altrettante donne uomini piemontesi che raccontano perché credono nei valori della Repubblica, e il cortometraggio Vignettisti e bambini raccontano la Costituzione, in cui grandi firme dell'illustrazione, da Dino Aloia a Massimiliano Frezzato a Gianni Chiostri, affiancano i bambini dei consigli comunali dei ragazzi nel commento agli articoli della Costituzione. Tutte le opere inedite realizzate per l'occasione dagli artisti saranno donate al Consiglio regionale per essere esposte e rese visibili al pubblico a Palazzo Lascaris.